ciao giorgio benvenuto a coming soon grazie e buongiorno a te senti iniziamo subito questa intervista sono veramente felice di averti qui con noi ma la curiosità che immediatamente mi viene è come è nata la passione per la recitazione questa è una bella storia che che risale a una domenica pomeriggio di tanti ormai anni fa quando ragazzino entra al teatro carignano di torino che la mia città con i miei genitori andammo a vedere qualche cosa in teatro io ero molto piccolo non mi ricordo nulla di quello che andammo a vedere della trama assolutamente niente mi ricordo solo che c'era nella scenografia c'era una porta dalla quale entravano uscivano gli attori e questa porta era in cima a una scaletta forse era un soggiorno non mi ricordo era un interno e io ho passato tutto il tempo a chiedermi ma quando gli attori salgono questa scaletta ed escono dalla porta dove vanno cosa c'è dietro c'è un'altra scaletta c'è un corridoio c'è non so non riuscivo a immaginare che cosa ci fosse dietro con noi quei tagli no improvvisi del montaggio immaginiamo di tagliare 20 anni e ritroviamo giorgio un po più grande che iscritto all'università di torino scienze naturali come tanti sui compagni di università decidi di andare a fare la comparsa al teatro regio nelle opere liriche per guadagnare 30 mila lire al giorno 33 mila lire se facevi una comparsa speciale quindi mi chiamano e faccio domanda mi chiamano al teatro regio mi dicono presentati domani io vado l'ingresso artisti anche un po emozionato insomma che teatrone e mi dicono benissimo guarda entra in quella porta lì scendi le scale scende due piani prende un ascensore sale al quarto piano c'è una taglia fuoco scendi vai un corridoio quarta porta sinistra insomma ti ritroverai in platea ovviamente io ho preso la prima porta e ho già sbagliato quindi ho cominciato a perdermi per questo teatro succede che a un certo punto io trovo una taglia fuoco la apro e invece di essere in platea mi ritrovo sul palcoscenico ma in fondo al palcoscenico del teatro regio di torino dove era già montata la scenografia di turandotte per cui vedo questa scenografia enorme imponente da dietro quindi con tutti i tiranti i proiettori le scalette le cantinelle e sono rimasto in questa specie enorme piazza d'armi questo hangar che era il teatro che è il teatro regio di torino a pensare ecco cosa c'è dietro e mi piaceva tantissimo che rapporto hai con luciano io non è che raramente mi innamoro dei personaggi che sto facendo perché mi innamoro più del lavoro secondo me è più importante lo spettacolo del personaggio è più importante il film la storia del personaggio questa è una storia molto lunga no è un daily e quindi è una storia che si sviluppa in 180 puntate è un prodotto anche molto corale siamo tanti attori quindi è anche difficile per me che ci lavoro dentro seguire tutto quello che succede sono due troupe che lavorano contemporaneamente non tutti vediamo tutto di quello che viene girato e che va in onda quindi è molto strano questo lavoro dal mio punto di vista anche se ha delle similitudini esempio con il teatro quando vai in scena tutte le sere magari per sei mesi qui io vado in scena ma su un set quindi un altro tipo di scena tutti i giorni per nove mesi quindi ci sono delle similitudini ma al tempo stesso anche delle cose un po quindi per rispondere alla tua domanda luciano mi è molto simpatico perché ha delle cose retro ha dei comportamenti retro ha un carattere un pochino fuori moda adesso però ricordiamoci che la serie ambientata negli anni 59 60 quindi insomma un comportamento un po un po troppo ben educato all'epoca era normale oggi diremmo sveglia ogni tanto tutte queste formalità non sono più così richieste ma ci fa piacere pensare che invece ci si può comportare anche in un modo così ma appunto con una plombe con una forma anche nel in quello che dice luciano lui ha una forma che è diventa sostanza in qualche modo c'è la sua sostanza e il modo in cui si esprime cioè l'essere sempre ben educato essere sempre attento agli altri premuroso poi un lavoratore che come dire una delle cose più belle che dice a un certo punto dice mi hanno insegnato a godere di quello che ho e non a preoccuparmi per quello che mi manca quindi non è una rivista perché vuole fare carriera lui vuole fare bene il suo lavoro quindi trovo che sia anche molto invece in questo molto moderno cioè quello che tutti adesso vanno cercando magari con certe filosofie zen certe religioni un po alternative eccetera no cioè il l'essere nel momento sapersi godere quello che abbiamo ma è molto semplice basta smettere di cercare fuori da noi quello che che ci manca e spesso qualcosa che ci manca perché lo vediamo negli altri ma chi se ne frega vediamo però c'è un qualcosa che i telespettatori già hanno visto qualcosa di particolare un feeling particolare con una donna che non è proprio silvia che non è la moglie che non è la moglie come la mettiamo a fare qualcosa guarda i temi di luciano sono le linee sono due c'è una parte che è quella diciamo pubblica cioè come è lui nel lavoro in un ambiente dove lui ha il suo agio dove si trova bene dove è stimato eccetera e poi c'è invece la linea familiare è una famiglia problematica cioè a casa che lo aspetta ha una moglie che invece è il suo posto c'è una donna molto arrivista tra l'altro lei è una mia compagna di scuola Marta Richelli mi ha fatto la scuola insieme e l'ho ritrovata sul set con la mia moglie ha dei figli problematici un ragazzo che mente fa finta di andare all'università invece non si sa cosa fa c'è una ragazza che ormai abbiamo visto che aspetta un bambino non è sposata e quindi per l'epoca era sempre un problema e in più appunto luciano ha questa affinità con una persona che lavora al paradiso delle signore ovvero la capocommessa clelia caligari si è interpretata magnificamente da enrica pintore no devo dirlo perché ci troviamo molto bene insieme ci tengo a dirlo ma qual è il problema nel 1959-60 non c'era il divorzio non c'era neanche l'abbandono del tetto coniugale c'era specialmente da parte delle donne in realtà credo forse da parte degli uomini no però insomma è un grosso problema anche dal punto di vista proprio della di quello che poi la società va a pensare nel senso non c'è un grande giudizio da parte della società verso queste situazioni quindi come si comporterà una persona così ligia ai suoi doveri come luciano e clelia caligaris è così limpida come sembra perché noi sappiamo che ha dei segreti sappiamo che è un figlio da qualche parte ma sappiamo anche che è entrata nel paradiso con dei documenti falsi c'è un tema molto questo è un po' melò questo tema è un po' melò e ci piace perché se no insomma racconteremo faremo un documentario sugli anni 60 invece no stiamo raccontando una storia che ha anche dei momenti drammatici come dei momenti un po' più da commedia cosa accadrà? io ve lo direi se lo sapessi perché siccome lo stanno scrivendo gli sceneggiatori scrivono man mano dei blocchi di puntate ovviamente io so qualcosa in più di voi perché abbiamo anche già girato ma non so come andrà a finire questa è una cosa che mi chiedo anch'io perché comunque sia di divorziare non se ne parla di lasciare la moglie non se ne parla che ci sia una intesa, un'attrazione, un innamoramento con Clelia di questo ne siamo certi cosa accadrà? non lo so, possiamo anche parlarne per delle ore ma non lo so ne anch'io, capisci? e sono anche curioso di saperlo senti adesso chiudiamo un attimo le porte del paradiso sì che è bruttissimo a prima o quella dell'inferno a prima o quella dell'inferno però pensi di tornare a teatro? no, questo è sicuro io non ho mai smesso di fare teatro parallelamente alla televisione e al cinema questo è il primo anno in cui non faccio nulla in teatro perché la lavorazione del paradiso è così lunga che non mi consente ed è anche così impegnativa nel senso che appunto è un set dove vado tutti i giorni non mi consente di fare nient'altro quindi questo è il primo anno la prima stagione in cui non faccio nulla in teatro questo non vuol dire che non stia pensando a mi manca mi manca ma non per quella cosa che tanti dicono ah perché il teatro ti dà il contatto col pubblico e il contatto col pubblico ce l'hai anche se esci per strada e magari incontri la signora che ti ha appena visto in televisione il teatro mi manca per una ragione un po' torniamo alle oche, alle anna di Lorenz cioè io nasco nel teatro io ho studiato in una scuola di teatro e per i primi 10-11 anni ho fatto solo teatro poi sono approdato al cinema e alla televisione con grande piacere devo dire ma se tu avessi chiesto a me a 20 anni cosa vuoi fare da grande? recitare in teatro cioè per me era quello ed è ancora quello nella mia mente non che io mi senta a disagio su un set perché ormai insomma ci sto però il teatro è sempre il posto dove voglio tornare mi manca un po' la manualità del teatro per manualità intendo no forse è una parola sbagliata mi manca un po' l'artigianalità che c'è ancora un po' nel teatro mi manca quella concretezza che c'è su un palcoscenico anche il fatto che se mentre reciti ti inciampi e sbatti un ginocchio non la rifai vai avanti se dici ma una battuta non la puoi rifare cioè tu devi costruire la scena man mano e anche ovviare gli inconvenienti man mano e riparare gli errori e portare a termine lo spettacolo è proprio un lavoro di costruzione diverso è bello perché ci tiene anche come dire un po' svegli un po' vivi in quelle due ore che stiamo sul palco con tutti i nostri sensi belli aperti cioè è bello stare sul palco per due ore